Da oggi è possibile, grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari 5 Stelle italiani ed europei, accedere ad un fondo di microcredito. Questo fondo è un fondo di 10 milioni di euro che è stato stanziato proprio da questo taglio degli stipendi ed inseriti nel Ministero dello Sviluppo Economico. Tutti coloro che hanno un'attività con un massimo di 5 anni o chi ha una nuova idea di un progetto di un'attività imprenditoriale può fare richiesta per avere questo fondo di fino a 35 mila euro dilazionabile fino ad un massimo di 7 anni. Come faranno? Avrete modo di informare questi imprenditori? Ci saranno delle giornate ad hoc? Sì, allora domenica 12 saranno predisposte due iniziative. Un'iniziativa sarà a Polla presso la Biblioteca Comunale alle 16.30 e una seconda iniziativa sarà a Sala Consilina presso l'Aula Magna alle 19.30. Lì ci saranno degli esperti che parleranno appunto di come accedere a questo fondo, come fare per essere aiutati e quali siano le iniziative predisposte.